I P.O.I.O. Io so dove si mettono I.P.O.I.O. sempre, tutte le volte, tutti i round in attacco di cerco I.P.O. Se morite, se morite me è problema, quindi non morite. Sì, sì, ma stai attento, non fai una cosa esattiva. No, no, ma io so dove si mettono, ci faccio prima. Attenti a abbassare i container che stunnano, ok, eccola, eccola, granata, ok, perfetto, stanno dentro, stanno dentro il rosso. Uno, regalo, lo vedo, lo vedo, ho preso, oddio, long range, regalo, uno è qua dietro, ha lasciato, no, l'ho ferito, lo stunnato quello sotto, Lo stunnato quello sotto, Leo, quello sotto quale, dove, 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 io la porta, Regalo, il treno, era dietro il treno, regalo, è un'altra centromata, Stigati hanno pesciato, non erano i miei, quello, è sopra, 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 a sinistra, Sì, 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 ce l'ho sopra, Leo, dove, 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 Ho mettato la grata, sì, eccola, eccola, lo tiene giù, l'ha visto giù. Sì, dove, tovriero, NSG, provo, NSG, provo, NSG, provo in secondo piano. nazgiro, NSG, pace Agdio, provaci Stigato, stealo, BRUNI dietro! Bravo. побlaro. Let's go, baby, specialized! This is teamwork! Let's go, baby! 統 terma, bella cazzo vado a mettere dove si mette royal però mi tiro il trophy oh sono furbo oh caccia caccia spumpalo si rimentò con te guarda il centro si attento Luca attento Luca ma non sono da centro non li vedo ma c'è la granata c'è trova c'è trova dietro il treno graffini dietro il treno graffini dietro la granata spiegato dietro la bomba dietro la bomba andò all'altro lato Luca bravo Luca no è passato da noi no è salito sopra prendi l'arma ti pusha uno di loro forse vanno su B si si aspetta si stanno su B forse guarda no è morto Colli sono due smg sono due smg raga ti caccia eccolo 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 oddio oggi perché c'è la pompa sta dietro sta dietro il caccia ho letto sì oh mio dio caccia se il top 1 mondo grandissimo appanicato grandissimo 2 non di tre non di tre no no senza il colga che gli dice stai fermo senza la guida questi qua dove vanno dove vanno senza la creda il magazzino proviamo da chiudere io vengo pure io io tiro la smoke se volete però devo andare non serve non serve senti che pure loro lasciano hanno arrivato la granata ti prego sopra 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 oh gli ho rotto il culo leo dove sei dentro il rosso qua dentro leo aiutami entra il rosso aiutami entra il rosso eh sto dall'altra parte leo aspetta aspetta che fa devi andare un attimo alla porta e dirmi se c'è qualcuno in rosso entro nella quella a destra la porta a destra di rosso raga non penso che hanno visto la bomba hai capito quale porta leo aspetta ma finis rischi di morire vieni con me dove va che vado leo i corner occhio si lo so la bomba eh eccolo sei messo a mirare sopra con smg stai in base si si sei l'ultimo rimasto è dal buco la bomba finita erano due erano in due erano in due e allora Luca non fa cazzate che c'è la bomba mi vado a mettere mi vado a mettere sopra Owens si difendere l'obiettivo arriva a sinistra hanno smoccato un nato hanno smoccato il centro mappa uno l'ho visto è andato in bianco forse sta in base nostra per quanto ne so ti ho passato da noi bella non è sopra birreria birreria forse siamo agli scoccioli raga fate vivi abbiamo vinto fate vivi mi avevo tirato una bomba sono morto mi avevo tirato una bomba mi muovi la mira ti prego è sopra nostro è sopra nostro è sopra nostro con smg è arrivato scappato attenzione l'hanno preso l'hanno preso un era in verso bianco quello graffiti chiudi la porta chiudi la porta guarda una porta sola sto guardando io quella sto guardando io quella si girati girati resta lì in quell'angolo resta lì in quell'angolo eh lo sapevo raga sono con gli eroi stanno back to back messi in qualche posto caccia c'è la stun la granata dietro quel quadrato lo puoi cercare c'è due stun Luca c'è due stun lo 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 stun oh let's go bravo caccia bravo bravo Luca mecca gli vogliamo correre addosso col fumogeno ah sì vogliamo spiazzare l'hanno fatto pure loro facciamo noi eh prova sì però c'è dove vuoi che lo tiro il fumaggio dimmi dove vuoi che lo tiro no famo una cosa tiriamolo in mezzo alla mappa un attimo a caso dove in mezzo alla mappa B di dominio a me mi serve uno che mi sta all'unfire eh sì lo stanno io lo stanno io stai il fumaggio lo stanno in fire caccia Luca seguilo Luca aiutalo Luca aiutalo vai verso la bomba è verso come se volessi piazzarla ok lo stun lo stun lo stun faccio che lasciano one shot dentro magazzino one shot dentro magazzino mamma mia che connesso sto piazzando e sopra e sopra 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 uen sopra uen si scende forse bravo ci siamo in rosso in due gioco one shot one shot let's go l'ultimo in uen era l'ultimo in uen era ok no non morire non morire non morire è uno solo eh è sopra ah sì colisone sopra hai vinto vinto no sì fa disinnescare ok ha chiuso ha chiuso ha chiuso la bomba ha chiuso la bomba ha chiuso la bomba ha chiuso la bomba carica ricarica gli lascio in bianco gli lascio in bianco freddo però provando a lasciare inutile che rimango fermo no vabbè i feriti sono tutti feriti e l'altro lo capito più buca parla parla non lasciate se non l'avete mai fatto ma a me perché viva sparato a filippo e ucciso pure a me mentre sparava filippo volemo fa rientrare in magazzino portate di uno per uno raga è facile spostarli uno per uno ci vuole niente è tirato le stand file è arrivata una granata occhio guarda la testa guarda lasciato dal treno ha lasciato ha lasciato a titolo dico cento volte che tirano le stunne porca madonna però vabbè devo fare una tattica con voi devo regalare round e poi devo fare primo sangue quel coglione allora venite 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 il rosso dietro occhio un shot dentro blu detto rosso scusate blu vaffanculo stava qua che faceva avanti intendo dalla porta la caccia eccolo eccolo leo con l'istra nell'angolo con l'istra nell'angolo di owens con l'ho la sinistra sotto a sinistra sì sì no leo ce n'è uno mi si è affacciato dal centro sopra rosso oddio vinciamo sta difesa vinciamo sta difesa vinciamo sta difesa non morite quello che sta subito non deve morire quello che va in owens ti prego vinciamo indietro e io io mi devo girare vado io ci vado io ci vado io ci metto come legnetti qua destra ok basta che ti metti in un posto safe pure vado sottoterra io aspetta faccio così dai così almeno stai vivo dopo fare no io vado sottoterra guarda guarda tu il magazzino che il karma c'hai sopra owens sopra owens preso uno solo uno solo è andata al centro della cittadana 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 un colisio un colisio un colisio dov'è disinnesco la disinnesco ce l'hai dietro di te leo è sopra era sopra era sopra mi sei affacciato bravo vabbè regà so io che li comanda a questi qua so io so io che li carri ogni partita 23-0 so io non so loro dai bravo bravo cioè porco dio l'hanno lasciato aperto la prima cosa che dico da quando gioca a gb è chiudete sotto mortacci vostra e questi l'hanno lasciato aperto pippe 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 e vado a chiudere come vado via la caccia entra con bulldog dentro la caccia luca non ti segui non segui lo va vai verso la buona piazzare va bene ok è scelta cita cito è scelta cito è morito legnetti no no un altro luca si viste hai visto lui è un shot e c'è leggere sotto fire no no lo so deve poter leggere quello vabbè vabbè regà ma ha lasciato cosa ha fatto no andate delle niente quello che fa sempre non ci ho pensato si coppa mia vabbè regà fa niente fa niente fa niente dai dai ragazzi guardate i vivi e loro piazzano 4v4 è una stronzata vincere poi cerca i distruggiti 4v4 non si piazza dai stai indietro subiti prego non mori vanno può essere pure che vanno tutti sottoterra guarda guarda la porticina stai andando stai andando non lo so nessuno voi li vedete se passano dal del coso di destra si sto vedendo siamo agli scoccioli si la bomba chi la guarda chi la guarda rega io avanzo sulla destra e guardo la devi sentire la devi sentire non la puoi guardare è sopra a Wenz si dai però porco dio come c'è arrivato sono tornati indietro non è avanti chi l'ha preso birra 1 sotto birra Luca Luca a destra è entrato sotto bianco sotto biancole vai disinnesca dietro di me dietro di me sta sul treno sta sul treno sta sul treno uccidilo per la difesa eccolo uccidilo per la difesa uccidilo uccidilo vuol dire mira vabbè quanti ciò che fanno comunque Luca non ti allontanare un po' per giocare definitivo vinciamo sta cazzo diretto cazzo di ground siamo 0 a 0 dobbiamo vincere il primo round della mappa forza attacco difesa eh non lo so certi parti cambio campo quindi in attacco cerchi di distruggire devo possibire un attacco veloce abbiamo 4 secondi per decidere che cosa facciamo eh rega uccidete killer dietro buttiamoli per favore piano rega spottateli spottateli abbiamo gli R mettetevi gli R ho sconato nessuno ma sono nato ma sono nato dietro qua dietro qua ti aiutami dovete aiutarmi dovete avanzare aiutarmi qua a destra dentro magazzino dentro magazzino one shot e tre lignetti one shot e tre lignetti beso bella piazza 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 Luca piazza dentro magazzino dentro magazzino uno piazzando sopra sopra bianco sono one shot caccia stai viva sopra bianco ho vinto ho vinto fermo fermo ho vinto no ci credo no porco dio fermo 1v1 vai sopra vai sopra a birra vai sopra a birra vai sopra a birra ce la fai non posso si ce la fai piazza oppure disinnesca è pibo è pibo non sto disinnescando piazza hai vinto disinnescare vado disinnescare oh mio dio pibo dove vuoi andare con quel bizzo non c'è la ganskill non c'è la ganskill tanto ha preso da dietro non t'ha preso da dietro ma zi ho sgusciato come un'anguilla mi son messo l'olio addosso fatica mamma mia mamma mia vabbere gara comunque mamma mia mamma mia Grazie.